Grazie a tutti. La pubblicazione di questo volume che è importante non soltanto per il suo contenuto ma anche se posso dirlo, io ho qualche tendenza da bibliofilo, anche apprezzo la carta stampata bene ed è molto ben presentato dal punto di vista grafico, editoriale, fino alla qualità della carta. Io ringrazio di vari complimenti che sono stati fatti. Vorrei rialacciarmi a due cose che sono state dette in precedenza, una dalla dottoressa Procaccia e poi l'intervento della dottoressa Grossi nel suo complesso. Quello che è stato richiamato dalla dottoressa Procaccia di sensibilità editoriale verso gli archivi è una cosa nota, nel senso che noi ormai più di vent'anni che ci occupiamo di questa cosa. La dottoressa Grossi richiamava la situazione storica in cui noi ci troviamo in questo momento e da un punto di vista editoriale noi ce ne siamo fatti carico culturalmente la sfida che lancia internet e la digitalizzazione e i nuovi programmi. Perché dai database, quando noi abbiamo cominciato a pubblicare i primi archivi, l'inventario e i saggi, perché in qualche modo la struttura era una struttura aperta che ci ha permesso nel tempo di accogliere queste sfide che in qualche modo venivano lanciate così nella rengo culturale. E in questo senso questo volume è un po' una risposta a questo tipo di sfida. Il fatto della gerarchizzazione che è stata richiamata da dottoressa Grossi è stato uno dei problemi che noi abbiamo chiaramente sulla scrivania come editori di carta stampata, non solo perché chi di noi, chi di voi ci conosce, noi facciamo anche siti internet e abbiamo anche affrontato questo problema, non so, penso gli archivi delle comunità ebraiche piemontesi, l'abbiamo in qualche modo affrontato ovviamente da un altro punto di vista. Ecco io credo che ci sia stata in qualche modo una buona pratica che ha coinvolto intellettualmente il gruppo fin dall'inizio in cui ho avuto la possibilità proprio per questa sensibilità io credo dell'Accademia e la collaborazione ormai ventennale con la soprintendenza di essere coinvolti nel processo di comunicazione e quindi di pensare a un progetto editoriale adeguato e richiamo di nuovo una frase della dottoressa Grossi, cioè quando si trova una casa adeguata a un progetto culturale c'è una sfida che viene in qualche modo lanciata. E si è creato effettivamente un lavoro di equip, noi abbiamo potuto affiancare nella fine del lavoro delle archiviste e poter dialogare con loro sui documenti, su quali piste di ricerca, l'asticella editoriale a quale altezza doveva in qualche modo fermarsi da un punto di vista dell'approfondimento ulteriore che sarebbe stato incomprensibile, è la struttura, si è parlato anche di eccesso di dettaglio e quindi in qualche modo il perdersi. Noi abbiamo intercettato a livello editoriale questa sfida e una delle risposte che ci siamo dati, che è una delle tendenze che noi vediamo, e che in tutti gli archivi digitalizzati la necessità di una guida, di andare a comprendere come viene innervato quell'archivio, come si costruisce, qual è la casa, quali sono le terminazioni nervose che lo tengono in piedi, in parte è stato scoperto, perché prima sembrava disaggregato, poi dopo dallo studio si è visto invece che aveva tutta una serie di legami. Ecco, noi abbiamo voluto restituire editorialmente questo tipo di legame. Vorrei richiamare a questo proposito un rapporto che è stato presentato appena la settimana scorsa, il rapporto Rota, immagino che voi ne abbiate sentito parlare, questo rapporto che riguarda la comunità torinese da un punto di vista culturale, economico, ecco, cito dalle conclusioni, dice questo, rispetto alla nostra comunità culturale in qualche modo, la nostra comunità nel suo complesso, il maggior punto di forza, come emerge da analisi contenute in questo rapporto, giusto appunto il rapporto Rota, ma anche in quelli degli anni scorsi, è probabilmente dato da un apparato organizzativo efficiente, e soprattutto dal virtuoso mix tra pubblico-privato. Cioè, questo tipo di collaborazione fra l'Accademia, la soprintendenza, le società private che in qualche modo hanno lavorato sul progetto, il fatto di aver potuto far parte di una comunità culturale in quel momento, per quanto temporanea, ci ha permesso di affrontare il problema della pubblicazione e di come farla al meglio, chiaramente. Ecco, credo che questo sia un elemento importante. È chiaro che il dato, cioè se noi andiamo a guardare il documento in questo discorso di gerarchizzazione, che è un problema che noi ovviamente viviamo molto, cioè il fatto che ci sia una gerarchia, il documento, oppure il dato più elementare, quello più piccolo, che può essere in qualche modo messo in relazione, noi credo di, l'abbiamo interrogato nel modo corretto e coerente con questa dinamica dei LOD, che dopo Elena Borgici in qualche modo ci introdurrà in un argomento. Ecco, il fatto che abbiamo presentato quattro livelli differenti all'interno della prima parte, saggistica e quindi il fatto che ci sono i nodi cronologici, i fondi personali, i saggi, i box che in qualche modo affrontano dei problemi trasversali, è una lettura di questo tipo. Dinamica e in qualche modo io difendo chiaramente da un punto di vista della possibilità di aggregare attorno a un saggio, a un articolo, un complesso di idee che sovente, purtroppo, ma è naturale che sia così, l'informazione estremamente vastissima che il mondo digitale ci offre non sempre si riesce a governare. L'estrapolazione che è stata fatta dei carteggi, che si può vedere nella parte inventario, è una risposta a questa cosa, ad esempio, perché effettivamente è un grosso lavoro di estrapolazione che è stato fatto. Quindi in questo caso è una scelta editoriale molto precisa. In termini, se posso dire, più culturali, politica, culturali, una cosa che, ripeto, alcune cose che ha detto la dottoressa Grossi, l'accesso alle fonti è una cosa che noi ovviamente come editori abbiamo nel nostro DNA. Il fatto che si restituiscano delle immagini stampate con una certa qualità, noi cosa che seguiamo con molta attenzione, è per permettere comunque anche sulla carta stampata di avere un documento che sia leggibile, che in qualche modo orienti già il lettore e dia la piacevolezza di poter leggere direttamente un documento. Questo quindi in estrema sintesi. Credo anche che ci sia una particolarità di questo archivio e credo un po' nel ruolo sociale e di percezione pubblica della scienza. Io credo che sia una necessità della comunità, della società italiana e quindi del fatto che ci siano delle ricadute. Ricadute, abbiamo avuto il piacere e anche l'onore di lavorare sulla grange qua con l'Accademia e a un certo punto lui ribadiva nelle sue pubblicazioni che non si sarebbe mai trovata un'immagine. Quindi l'idea del teorico puro, della teoria. E quindi i punti lagrangiani poi si sono poi, in qualche modo, si è vista la loro, non dico la loro applicazione, ma la loro dimostrazione quando i satelliti hanno cominciato a girare attorno al nostro pianeta. Quindi è un po' come dire che la scienza, la teoria, che in qualche modo è stata dibattuta anche nelle memorie mute, si è scelto di discutere di questo proprio perché era una di queste cose nascoste, in qualche modo che non hanno avuto la possibilità di emergere. E a volte alcune di queste teorie, lo vediamo anche nella pratica dei Nobel, hanno la loro, diciamo in qualche modo, acquisiscono dopo, magari dopo 30 anni o 40 anni, perché c'è stata la necessità di una loro verifica e quindi di una loro trasmissione. Ecco, quindi particolarmente per noi come case editrice, aver pubblicato l'archivio dell'Accademia delle Scienze, ci rende particolarmente orgogliosi proprio perché è un tassetto della cultura, io credo, importante. E credo che l'Accademia delle Scienze di Torino rappresenti per noi uno di questi fari, della nostra collettività, che credo che abbiamo estremamente bisogno. Cioè produttori di cultura non esclusivamente rivolta al turismo. la mia è una polemica, ma credo che questo sia un elemento veramente molto molto importante. Non voglio dire altro, ecco, in questo senso voglio, la brevità nasce proprio dal fatto che tutto quello che in qualche modo mi premeva dire è già stato ampiamente sviluppato dagli altri. Credo soltanto in questo, che vent'anni fa, quando abbiamo fatto il primo archivio storico comunale, abbiamo avuto forse la lungimiranza di vedere il lavoro degli archivisti con un lavoro che andava valorizzato. Ecco, e quindi questo secondo tassello, che di nuovo richiamo la dottoressa Grossi, che è stato richiamato, cioè il fatto che ci sia un primo momento di salvaguardia, ma poi la valorizzazione, in questo caso noi abbiamo veramente questo compito e credo che sia un compito molto affascinante che abbiamo potuto svolgere in equip, quindi rispondendo, come si diceva prima, a livello di lavoro archivistico, ma anche editoriale di valorizzazione. Le due cose si sono guardate e intrecciate con facilità. Quando si realizza un'iniziativa così importante, è il risultato della collaborazione fra tante persone, però di solito c'è sempre qualcuno che ha coordinato il tutto un genius loci, che in questo caso è Elena Borgi. Grazie. Allora, vabbè, io mi scuso ma questa sera non ho voce, poi vista l'ora sarò molto breve e concisa. Voglio usare le parole per l'avvio della mia presentazione, le parole di Paolo Francese, che è un'altra dei soprintendenti che alleggiano in questa sala stasera, perché è stato uno degli soprintendenti che si è avvicendato in questo lungo progetto, che nel dirmi che non sarebbe stato presente mi ha scritto un inventario è al contempo un punto di arrivo e di partenza. E in effetti è vero, l'inventario non può che essere un nuovo punto di partenza. E per noi il punto di partenza è stato quasi immediato, perché abbiamo finito l'inventario e abbiamo subito lavorato a quello che secondo me è stato veramente un grande successo, ovvero la pubblicazione di questo volume tra le carte della scienza, che è veramente un modo per far vedere che le istituzioni adesso devono cambiare registro, cioè le istituzioni devono investire sui loro archivi, perché i loro archivi sono dei beni strategici. Il nostro patrimonio è un patrimonio da valorizzare e da rendere fruibile e da valorizzare non solo per gli addetti ai lavori, come le persone che ci sono in sala questa sera, ma verso un pubblico più ampio, perché gli archivi e le biblioteche, ma soprattutto gli archivi, sono stati troppo nascosti da istituzioni come la nostra. L'Accademia delle Scienze per anni ha avuto un patrimonio riservato solo ed esclusivamente ai soci e solo nel 2016 ha deciso di aprire la sua biblioteca. Ha aperto la biblioteca e di fatto ha aperto anche il suo archivio storico, perché se è vero che il regolamento impone ancora una lettera di presentazione per la consultazione dei documenti archivistici, è anche vero che la possibilità di digitalizzare in maniera massiva il patrimonio consente ora di consultare le copie virtuali, digitali, dei documenti. E quindi di fatto le rende libere, le rende libere per tutto il grande pubblico, quindi non solo per gli studiosi torinesi che hanno la possibilità di recarsi qui in loco, ma per un pubblico veramente molto ampio che abbraccia chiunque, chiunque sappia leggere l'italiano, il latino e tutte le altre lingue in cui sono scritti i nostri documenti. Un inventario è anche un punto di partenza perché ti fa scoprire le carte e di sicuro questo inventario, dandoci punti di vista nuovi e più completi, ci ha permesso, come ha detto la dottoressa Caffaratto, di scoprire dei fondi, tipo il fondo di Francesco Rossi, di questo medico, di cui nonostante la quantità di carte conservate in questo archivio, ci eravamo scordati di avere questo archivio, che invece adesso si presenta molto più chiaro, molto più delineato, e quindi uno dei progetti su cui l'Accademia vuole investire nel corso del prossimo anno, e diciamo anche del 2019, è proprio valorizzare il fondo Francesco Rossi, compiendo un'altra azione di sinergia istituzionale, lavorando questa volta con l'Accademia di Medicina. Esattamente come nel corso di quest'anno, ha lavorato con altre due istituzioni, ovvero la fondazione Casa Archivio Martinetti di Castellamonte e la fondazione Piero Martinetti, che fa capo all'Università di Torino, che anzi è dentro l'Università di Torino, per pubblicare l'inventario completo di tutte le carte di uno dei più importanti filosofi del Novecento italiano, uno degli uomini che non prestò giuramento al fascismo, e che quindi è particolarmente significativo per la nostra epoca e per la nostra storia. Un altro progetto su cui stiamo lavorando, proprio perché è l'archivio che ce lo chiedeva, e questo inventario, questo lavorare in mezzo alle carte, tra le carte, è stato un altro progetto interessantissimo, è quello sulle carte della Prima Guerra Mondiale, di questo primo ministro, che è stato Paolo Boselli, che è stato anche presidente di questa Accademia, e che in qualche maniera ha deciso di lasciare le sue carte all'Accademia delle Scienze, perché non voleva che le sue carte andassero all'archivio centrale dello Stato italiano. Lui le ha proprio sepolte qua dentro, e ahimè io un secolo dopo le ho tirate fuori, e con la digitalizzazione che è stata compiuta saranno presto disponibili a tutti. Quindi quello che noi vogliamo fare in questo momento è valorizzare, valorizzare attraverso la digitalizzazione, come vi diceva la dottoressa Tealdi, stiamo lavorando per rimettere in piedi la nostra teca digitale, e quindi per consentire a tutto il pubblico di fruire di queste oltre 500.000 immagini che l'Accademia ha digitalizzato nel corso di dieci anni, e quindi a breve, io mi auguro entro la fine di quest'anno, al massimo l'inizio dell'anno prossimo, il visualizzatore che avete visto sarà anche arricchito con le immagini digitali. E questo è anche grazie al fatto che l'Accademia negli ultimi anni è riuscita ad ottenere l'interesse di tante istituzioni, e a far lavorare tanti enti insieme, tra cui mi sento di dover dire un grazie, ma questa sera è un po' un grazie a tutti, al Rotary International, che ci ha comprato uno scanner planetario, che costa come un'utilitaria, e che ci permetterà finalmente di acquisire tutto il materiale che non abbiamo acquisito fino ad ora, perché avevamo paura di rovinarlo, mentre adesso da novembre inizieremo le acquisizioni anche dei documenti rilegati, e quindi di tutto il fondo dei manoscritti rilegati, in cui sono conservati gran parte dei codici miniati e dei documenti ritenuti più preziosi e rari di questo archivio. Quando sono entrata qui in Accademia, 17 anni fa, avevo tanti sogni, tutti i sogni erano di valorizzare questo patrimonio di cui mi sono innamorata, e adesso uno è compiuto, ci ho messo 15 anni, la strada è stata molto tortuosa, non è stata lineare, avevamo un obiettivo, perché quando io sono arrivata qua dentro, la prima volta come utente, era il 97, quindi 20 anni fa, quando dovevo cercare dei documenti di un autore, dovevo cercarlo su vari cataloghi, per i libri, per le edizioni rare di pregio, perché gli schedari erano separati, se per il fondo della CA, che era talmente grande da avere diritto a uno schedario suo, per il fondo Manoscritti, perché era un suo schedario, per il fondo Carteggi, e in più dovevo andare a vedere l'inventario a stampa pubblicato negli anni Ottanta dell'archivio storico istituzionale. Dopo aver cercato in tutti questi cassetti, quindi una pluralità di cassetti, avevo, grazie, un quadro chiaro di quello che c'era effettivamente in questa biblioteca e in questo archivio. Capite che era un'azione molto complessa, molto lunga, con oltretutto delle possibilità di lacuna incredibili. Ora, qual è il mio nuovo sogno? Spero di non metterci 15 anni. È usare una nuova infrastruttura tecnologica, che sono i LinkedIn Open Data, di cui avete sentito parlare come cenno in qualche altro intervento che mi ha preceduta, e i LinkedIn Open Data sono la nuova frontiera, o almeno, così si dice tra le biblioteche, che generalmente sono un po' più avanti nell'innovazione tecnica rispetto agli archivi. E voi sapete, io sono una bibliotecaria e non un archivista, quindi... Però questa volta io voglio usare i LOD, i LinkedIn Open Data, per fare da ponte. Cioè nel mio sogno cosa c'è? Usare i LOD per fare un'unica ricerca all'interno del patrimonio della biblioteca e dell'archivio. Ovvero, adesso, volendo, uno può fare una ricerca prima nello schedario della biblioteca, nel catalogo unito, di fatto, dove è confluito il catalogo della biblioteca, e una sull'inventario che avete appena visto su web, sul nostro sito. Quindi dal nostro sito, attraverso due canali, si può conoscere cosa c'è, ad esempio, di Bellardi, sia a livello di documento a stampa, sia a livello di documento manoscritto. Il mio desiderio, il mio sogno, che spero di attuare in un paio d'anni, è questo, fare un'unica ricerca sfruttando i LOD e che i LOD mi restituiscano immediatamente la risposta e mi offrano ancora uno step successivo, ovvero di vedere anche le immagini legate ai documenti. Questo garantisce tutela, conservazione e fruizione. Spero di farcela, spero di farcela fra due o tre anni. Vorrei, insomma, concludere questo mio intervento con dei grazie. Sarebbero tanti, forse troppi. Quando c'è stata la presentazione della Notte degli Archivi ho visto che direttamente avevano lavorato a questo progetto 61 persone, solo per la pubblicazione del volume, quindi dalle archiviste che vedo qua e mi fa molto piacere avere qua oggi, alle persone che hanno lavorato al libro con passione, dedizione, cercando di superare le difficoltà oggettive che avevamo, a tutti gli autori del volume, perché questo è un volume collettivo, nel senso che i profili biografici sono stati scritti dagli studiosi che nel corso degli anni hanno approcciato questo archivio. Quindi ci sono dei soci dell'Accademia ma ci sono anche degli studiosi che sono diventati nel frattempo da dei dottorandi a dei professori universitari. Ci sono tanti archivisti come la dottoressa Caroli e il dottor Marco Carassi che si sono trasformati da colleghi e da amici proprio perché abbiamo trascorso tanto tempo insieme, abbiamo lavorato tanto insieme, abbiamo passato dei momenti di sconforto perché è un progetto che dura 15 anni, è un progetto che ogni tanto pensi che non vedrà mai la luce, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi un grazie a tutti ma un grazie anche ai miei vertici, ai miei presidenti perché questo progetto è nato in realtà con un presidente che non c'è più, Gaetano Di Modica che mi aveva lasciato la possibilità di iniziare a guardarmi intorno e decidere che cosa fare e poi tutti i presidenti successivi e in particolar modo un presidente che adesso se ne è andato che è il professor Pietro Rossi che mi ha dato una sede fantastica per l'archivio perché voi forse l'avete visto solo nelle foto ma adesso l'archivio è una delle sale uno dei depositi più belli di questa accademia e quindi anche le archiviste hanno lavorato in un posto bello, piacevole dove ti affacci su piazza San Carlo non è uno sgabuzzino non è uno scantinato è un luogo bello dove studiare dove fare ricerca e dove sistemare le carte con spazio e luminosità. Quindi a Pietro Rossi tutto un particolare grazie un particolare grazie ad Angelo Raffaele Meo che vedo qui perché è stato lui la molla per la digitalizzazione e per l'innovazione perché lui mi ha insegnato a scrivere in HTML quando ero una giovane ventenne e mi ha insegnato ad amare l'informatica e a sfruttarne le capacità e in più ad Alberto Conte che è stato il presidente che mi ha consentito di lanciare un progetto del genere perché a un certo punto uno degli intoppi è stato il fatto che i fondi dell'otto per mille non avrebbero pagato la pubblicazione e quindi la pubblicazione doveva essere a carico se la volevamo fare doveva diventare un progetto Accademia delle Scienze Alberto Conte mi ha detto vai muoviti fai richieste in effetti le richieste sono andate a buon fine perché la Banca d'Italia il Comune di Torino e il Ministero per i Beni Culturali hanno creduto a questo progetto l'Accademia ha contribuito anche lei con delle risorse proprie e alla fine questo volume che è veramente un frutto di volontà di dedizione e soprattutto vuole essere un omaggio all'Accademia e a chi mi ha preceduto a Paola Caroli perché mi ha preceduto nel mio ruolo di bibliotecaria tanti anni fa e ad Aldo Gelera a cui è dedicato il volume a cui noi dobbiamo quasi tutto dobbiamo l'avvio perché senza Aldo Gelera le archiviste che ci hanno messo tre anni ce ne avrebbero messi trenta e quindi grazie grazie di cuore a tutti lei ha lei ha giustamente ringraziato le tante persone che hanno collaborato ma ancora una volta siamo noi che dobbiamo ringraziare lei per il grosso lavoro di coordinamento che l'ha impegnata a fondo in qualche anno qualche anno di lavoro grazie davvero siamo alla fine di questa serie di interventi vorrei sapere se qualcuno vuole intervenire se ha delle domande nessuno allora faccio io soltanto un rapidissimo commento finale cioè più volte nel corso di questi interventi si è sottolineato come questo lavoro sia un esempio sia un esempio di buone pratiche buone pratiche dal punto di vista del risultato che è stato ottenuto del prodotto ma anche buone pratiche dal punto di vista del metodo che è stato seguito e si è anche sottolineato l'importanza delle collaborazioni che sono state sviluppate tra enti pubblici l'Accademia delle Scienze di Torino la soprintendenza archivistica ma anche società private la società arte ed intorni per il lavoro di schedatura e APAX per il lavoro di pubblicazione di questa opera che celebra del lavoro che è stato fatto quindi grazie a tutti e buonasera grazie a tutti